ciao a tutti ragazzi benvenuti nel mio nuovo video sono i vostri alle colli e cominciamo subito una nuova serie di episodi chiamata final fantasy sì perché cambiare un po fa bene sì ok visto che sono scemo la merda io voglio stare nell'or originalità si chiama Squall e lo lascio Squall io voglio essere originale non cambiare il nome il gioco è questo rimane così ho voluto togliere tutta l'intro perché sennò veramente diventava noioso diventava noioso tutto lungo finiva più e però acquisti che pezza di buono e lo sapevo che ero io o lo sei l'esame pratico è oggi no neanche ieri domani oggi l'esame pratico non si sta bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il bello Gardner dove si fa l'esame pratico. Il programma di oggi... Ah, i sed. Cioè, a parte che io questo gioco... Io avrei giocato tanti di quelle volte, quindi me lo ricordo a memoria. Ah, interessante. Cioè, all'inizio è un po' noioso comunque. Devo dire... Non superare quella prova. E volevo andare anche stamattina. Lo sai per... Vabbè... Interessante. Vabbè, raga... Vabbè... 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 Questa è l'ascizio Uno è il ghiaccio In più ci sono tantissimi altri GF, Guardian Force In giro Intanto chi ha giocato A Final Fantasy lo usa In giro guarda Ok, devo leggere tutto, devo leggere tutto e tutto, capircelo. Era una vita che non ci giocavo più, quindi devo capirci di nuovo, cato guacchi. Ok, allora è sacato guacchi. Sì, perfetto. Ok. 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 c'è il cad di balan trabbia e l'altro qual era calvatio questi sono i tre gardner del gioco final fantasy ok 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 Beh, la paga c'è sempre, no? Viva i soldi, viva i soldi, i soldi, con i soldi si vive meglio, meglio. Viva i soldi, non fivo. Viva il soldi Con il soldi si viva meglio Viva il soldi Perfetto Perfetto Perché con i soldi si viva meglio Tu volevi solo farti i soldi Ma come va, come va, come va Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa Cosa accadrà, cosa accadrà Perché intanto con i soldi I soldi I soldi sono in potere Potere E intanto con i soldi si viva meglio Questo è l'inizio più noioso che esiste Mamma mia Ragazzi vi è piaciuto questo nuovo episodio Dalla serie di Final Fantasy Lasciate la mi piace Link in descrizione dei miei social Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto Alla prossima Ciao